Uomini e donne, Claudia e il regalo inaspettato a Lorenzo Riccardi Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi stanno vivendo la loro storia damore al di fuori delle telecamere di Uomini e Donne. I riflettori, però, stanno continuando ad illuminare la loro vita. . Attraverso i rispettivi profili Instagram, infatti, i due ragazzi stanno pubblicando una serie di contenuti volti a mostrare ai numerosi fan degli aneddoti divertenti in merito alla loro storia damore. . Come tutti sapranno, da poco il Cobra e Lady Cobra sono andati a vivere insieme a Latina. . Come già anticipato, sia Lorenzo che Claudia sono molto attivi sul web. Da qualche ora, infatti, è apparsa una foto di Riccardi che sta generando molto scalpore a causa di un dettaglio al suo dito. Ecco di cosa si tratta. . Uomini e donne, lo splendido regalo di Claudia a Lorenzo Riccardi. . Un po' di ore fa, Lorenzo Riccardi ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare in primo piano con la mano volta a sorreggere il mento. . I numerosi follower, però, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio molto interessante. . Al dito di Lorenzo, infatti, è apparso un anello nero un po' doppio. . Il pubblico da casa ha immediatamente capito che si trattasse del regalo che Claudia gli ha fatto per il suo compleanno. . . I numerosi follower hanno, quindi, fatto i complimenti a Riccardi per lo scatto ed hanno messo in evidenza lo splendido pensiero della Dionigi. . Claudia Dionigi risponde ai fan. . Era da giorni, infatti, che si parlava di ciò che Claudia Dionigi avrebbe regalato a Lorenzo Riccardi per il suo primo compleanno. . . Dopo numerosi indizi, finalmente, è stato svelato l'arcano, a quanto pare si tratta di un anello. . Tra i vari commenti, compaiono anche le risposte dell'ex corteggiatrice. . . La ragazza, infatti, ha risposto ad alcuni utenti che si sono complimentati con lei per l'ottima scelta e li ha ringraziati con tanto affetto. . Insomma, a quanto pare Claudia e Lorenzo hanno conquistato la stima e la simpatia di moltissime persone. . .